Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna, per il traffico intenso, si segnalano code e tratti tra Chiusi, Chianciano e Valdarno e tra Firenze e Impruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre verso Bologna, rallentamenti per un veicolo fermo in galleria tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Sassomarconi. In Filippili, guidare con prudenza per la pioggia tra Lastra, Signa e San Miniato. Si ricorda che la statale 330 è chiusa in località Albiano Magra nel comune di Aulla, in provincia di Massa Carrara, a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!